G.F.Vip, Jessica Onorevole Fire e il futuro con Baru e Mazzata Sofie e Basciano Jessica Selassie ha vinto il grande fratello Vipsei battendo al televoto Davide Silvestri La sua è stata una vittoria su cui a settembre in pochi ci avrebbero scommesso Eppure è riuscita a oltrepassare le aspettative di tutti entrando nel cuore di migliaia di telespettatori Dopo tanto tempo trascorso a fare la sorella maggiore di Lulu e Clarissa, Jessica ha messo al centro se stessa convincendo il pubblico Anche la sua storia con Baru ha decisamente dato soddisfazioni, tanto che oggi i fan dei Geru non cercano altro che news positive A parlare ci pensa proprio la Selassie, nella prima intervista sul settimanale Chi dopo la vittoria Tra avvicinamenti e poca chiarezza, hanno fatto sognare molti telespettatori Ma cosa sta succedendo oggi tra Jessica e Baru dopo il GF Vipsei? Innanzitutto, la principessa ricorda che nella casa le consigliavano di stare attenta, che giocava Non l'ha fermata, anzi Anche ora l'ormai ex GFina mantiene alta la speranza Sebbene non dia alcuna certezza che tra loro possa davvero nascere una storia d'amore lontano dalle luci dei riflettori Sono convinta che quello che ho visto fosse vero Ti vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello Cosa ho capito dentro la capanna? Che c'è attrazione fisica? Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma Ci rivedremo Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano Queste le parole di Jessica Selassie e Subaru Dunque, sembra proprio che i Geru abbiano intenzione di rivedersi Ma chiaramente non possono sapere cosa accadrà ora che non vivono più insieme 24 ore su 24 dentro le quattro mura della casa più spiata d'Italia In attesa di scoprirlo, i fan dovranno accontentarsi di queste dichiarazioni Intanto, fa capire che non ha alcuna intenzione di aspettare troppo Barru, tanto che fa notare che è pronta a guardarsi intorno La sua intervista, la principessa ci tiene a precisare che Alfonso Signorini è colui che ha creduto sin dall'inizio in lei e le sue sorelle Durante il suo percorso, dopo la crisi generata dalle continue attenzioni che riservava più a Lulu e Clarissa che a se stessa, è sbocciata e ha tirato fuori ciò che aveva dentro Questo chiaramente non potrà mai cambiare il rapporto che ha con loro Ricorda come sia stato complicato gestire Lulu quando Clarissa è stata eliminata Ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch'io, afferma Jessica Ecco che la mazzata la riserva a qualcuno di inaspettato Parlando delle coppie nate al GFV 6, la vincitrice si lascia andare a una stoccata E' già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio Se quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro Jessica è sempre stata una grande amica della Codegoni dentro la casa di Cinecittà Loro ci sono stati dei diverbi proprio quando Basciano si è unito ai giochi Selassie aveva mostrato interesse nei confronti dell'ex volto di Wade, il quale però si è poi lasciato andare con Sophie Nonostante ciò, i tre sono riusciti a mantenere una solida amicizia A oggi sembra proprio che Jessica non sia convinta che per questa coppia ci possa essere un futuro roseo Sofie Codegoni e Alessandro Basciano, la scelta su Fabrizio Corona La coppia nata nella casa ha grandi progetti da sviluppare insieme Non solo hanno trovato casa dove andare a convivere, ma hanno tatuato le iniziali dei loro nomi sui polsi Come dichià nella loro prima intervista di coppia su chi, Alessandro dovrà organizzarsi con il suo lavoro per stare a fianco a Sophie Cercherà di spostarlo gran parte a Milano e ha già parlato con i soci del ristorante che aveva aperto a Madrid Tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie Sono andato lì per scappare, ora voglio tornare Ovviamente, vivrà con la Codegoni a Milano, ma dovrà scendere spesso a Roma per stare con suo figlio Nicolò Ed ecco che si torna a parlare di Fabrizio Corona e della sua intromissione durante una delle puntate del GF VIP Basciano conferma che era infastidito dal fatto che l'ex paparazzo l'avesse giudicato senza conoscerlo Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi Ma che ruolo avrà ora Corona nella vita di Sophie? Lo devo ancora sentire Le ipotesi sono due o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro, dichiara l'ex-tronista di Uomini e Donne Chagoni dicono la loro anche sui Gerù secondo Sophie e lei è presa sul serio, mentre Alessandro è quasi certo che tra loro svanera tutto, visto che non è successo niente in questi mesi Per quanto riguarda il loro futuro, invece, la Codagoni sogna di essere indipendente e di diventare mamma veduale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo Jessica Selassie ha vinto il grande fratello Vipsay battendo al televoto Davide Silvestri La sua è stata una vittoria su cui a settembre in pochi ci avrebbero scommesso Eppure è riuscita a oltrepassare le aspettative di tutti entrando nel cuore di migliaia di telespettatori Dopo tanto tempo trascorso a fare la sorella maggiore di Lulu e Clarissa, Jessica ha messo al centro se stessa convincendo il pubblico Anche la sua storia con Baru ha decisamente dato soddisfazioni, tanto che oggi i fan dei Gerù non cercano altro che news positive Parlare ci pensa proprio la Selassie, nella prima intervista sul settimanale Chi dopo la vittoria Tra avvicinamenti e poca chiarezza, hanno fatto sognare molti telespettatori Cosa sta succedendo oggi tra Jessica e Baru dopo il GFVP6? Innanzitutto, la principessa ricorda che nella casa le consigliavano di stare attenta, che giocava Questo non l'ha fermata, anzi Anche ora l'ormai ex GFina mantiene alta la speranza, sebbene non dia alcuna certezza che tra loro possa davvero nascere una storia d'amore lontano dalle luci dei riflettori Sono convinta che quello che ho visto fosse vero Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello Ho capito dentro la capanna? Che c'è attrazione fisica E ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma Quindi ci rivedremo Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano Tutte le parole di Jessica Selassie e Subaru Dunque, sembra proprio che i Gero abbiano intenzione di rivedersi Certamente non possono sapere cosa accadrà ora che non vivono più insieme 24 ore su 24 dentro le quattro mura della casa più spiata d'Italia In attesa di scoprirlo, i fan dovranno accontentarsi di queste dichiarazioni Intanto, fa capire che non ha alcuna intenzione di aspettare troppo Barru, tanto che fa notare che è pronta a guardarsi intorno Nella sua intervista, la principessa ci tiene a precisare che Alfonso Signorini è colui che ha creduto sin dall'inizio in lei e le sue sorelle Durante il suo percorso, dopo la crisi generata dalle continue attenzioni che riservava più a Lulu e Clarissa che a se stessa, è sbocciata e ha tirato fuori ciò che aveva dentro Questo chiaramente non potrà mai cambiare il rapporto che ha con loro Ricorda come sia stato complicato gestire Lulu quando Clarissa è stata eliminata Io ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch'io, afferma Jessica Ma ecco che la mazzata la riserva a qualcuno di inaspettato Parlando delle coppie nate al GFV 6, la vincitrice si lascia andare a una stoccata Non è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sofie e Alessandro Jessica è sempre stata una grande amica della Codegoni dentro la casa di Cinecittà Ci sono stati dei diverbi proprio quando Basciano si è unito ai giochi E la si aveva mostrato interesse nei confronti dell'ex volto di Wade, il quale però si è poi lasciato andare con Sofie Nonostante ciò, i tre sono riusciti a mantenere una solida amicizia Oggi sembra proprio che Jessica non sia convinta che per questa coppia ci possa essere un futuro roseo Sofie e Codegoni e Alessandro Basciano, la scelta su Fabrizio Corona Coppia nata nella casa ha grandi progetti da sviluppare insieme Non solo hanno trovato casa dove andare a convivere, ma hanno tatuato le iniziali dei loro nomi sui polsi Come dichiarà nella loro prima intervista di coppia su chi, Alessandro dovrà organizzarsi con il suo lavoro per stare a fianco a Sofie Cercherà di spostarlo gran parte a Milano e ha già parlato con i soci del ristorante che aveva aperto a Madrid Tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sofie Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare Ovviamente, vivrà con la Codegoni a Milano, ma dovrà scendere spesso a Roma per stare con suo figlio Nicolò Ecco che si torna a parlare di Fabrizio Corona e della sua intromissione durante una delle puntate del GF VIP Codegoni conferma che era infastidito dal fatto che l'ex paparazzo l'avesse giudicato senza conoscerlo Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi Il ruolo avrà ora corona nella vita di Sofie? Lo devo ancora sentire Le ipotesi sono due o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro, dichiara l'ex tronista di Uomini e Donne I ragioni dicono la loro anche sui Gerù secondo Sofie e lei è presa sul serio, mentre Alessandro è quasi certo che tra loro svanera tutto, visto che non è successo niente in questi mesi Per quanto riguarda il loro futuro, invece, la Codegoni sogna di essere indipendente e di diventare mamma vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo